Torna il Consiglio Comunale Roberto Puricelli con la legislatura numero 5 e sono già state quattro prima, l'ultima ho preso quello che si dice la pausa di riflessione però ho sempre seguito comunque l'attività politica cittadina perché è quella di cui mi sono sempre interessato e sono pronto ad aiutare, se ci sarà dato lo spazio, questa amministrazione per il bene della città. Questo è quello che mi propongo, io sono uscito dai partiti, credo davvero nelle persone, credo che tutti quelli che sono qui al di là di ambizioni personali possano avere come primo obiettivo fare il meglio possibile per i nostri cittadini e per la nostra città, risolvere quelle che sono le problematiche esistenti da prima e da adesso e quindi mi auguro che sia un rapporto di collaborazione.